Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 8 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Soldi ben spesi? Ai posteri l'ardua sentenza. Con Mercurio il contabile abbracciato alla luna in seconda casa, il denaro oggi sembra ballarvi bene nelle tasche, ma questo non significa che lo possiate dilapidare a piacimento. Sagge parole vi arrivano dal ricco Plutone nel settore del risparmio, che vi redarguisce col preciso intento di cucirvi le tasche o quantomeno centellinarvi le monetine. Ha ragione lui, di acquisti voluttuari ne avete fatti fin troppi, tra saldi, prezzi corti, super sconti avete saccheggiato centri commerciali e supermercati, ma non dimenticate che anche questa mania dell'acquisto selvaggio non è una risposta sana alla vita. Ok al risarcimento emotivo per qualcosa che vi atturbati e feriti, ma esagerare con indumenti, cibari e oggetti che si riveleranno inutili, se non di fattura scadente, non ha alcun senso e in cuore vostro lo sapete bene, dunque stop al consumismo. Difficoltà e ostacoli per la coppia, soprattutto nella realizzazione di progetti importanti. Tuttavia, superate queste difficoltà, la coppia realizzerà finalmente, e con successo, i propri progetti. Crisi temporanee e di breve durata. Oggi sarete in parte su di giri, perlomeno quelli nati tra le 11 e le 18, e giove in serata potrebbe regalarvi dei momenti di intensa soddisfazione. Se state cercando le occasioni giuste per ricontattare chi non vedete da tempo e che vi sta a cuore, oggi è l'occasione buona per farlo. I nati di sabato saranno particolarmente distratti, alcuni perderanno cose importanti a cui tengono tantissimo. Giornata non molto fortunata per i trasporti, chi si sposta per lavoro o per studio oggi dovrà fare i conti con alcuni contrattempi che potrebbero far perdere la pazienza. Oggi potreste rimpiangere un vostro ex amante con il quale avete avuto una relazione extra e accorgervi di aver sbagliato tutto, han proprio tutto. Potreste sentirvi a disagio ed imbarazzati di fornca delle situazioni che si verranno a creare tra colleghi o amici. Abbiate cura di avere un atteggiamento più sobrio e più circostanziato. Siete in alto mare e non sapete come comportarvi. Fermatevi e riflettete. Se avvertite freddo al cuore non lasciatevi prendere dalla tristezza e non fate cupi pensieri, Venere vi darà ben presto una mano per recuperare il calore sentimentale. Buone speranze per risolvere una questione che vi sta a cuore. Occhio alla posta e al telefono, notizie in arrivo. Marte in toro vi invita ad essere meno frenetici e a scaricare la tensione magari in lunghe passeggiate o in sport acquatici. Perché il cielo vi gratifica e la vostra salute si presenta in uno stato ottimale, solo la notevole resistenza nervosa, che di solito possedete in abbondanza, potrebbe subire qualche facile oscillazione per via del grande lavorio mentale cui siete stati, in questi giorni sottoposti. In aggiunta Saturno Pesci in splendido aspetto vi sorregge in ogni vostra mossa. E appunto, questa lunedì sarà l'effetto Saturnino a rendervi particolarmente intuitivi, molto più del solito, riuscendo a prevedere, quasi con una forza illuminante, i comportamenti, le azioni altrui. Luna spendazione abbracciata a Mercurio nella vostra seconda casa, sempre che Plutone, custode delle vostre tasche, non cominci a dare segnali di impazienza, ricordandovi che i vostri conti non sono quelli di zio Paperone, dopo un po' suona la campana, segno che è ora di smetterla e passare ad altro. Amore ed Eros La vostra possessività non ha nessuna giustificazione, il partner vi adora e vi ha posti su un piedistallo, esattamente quel che voi fate ogni giorno nei suoi confronti. Dunque una coppia perfetta, come quella del faraone egizio e della sua sposa o come il principe e la principessa protagonisti di ogni fiaba degna di essere chiamata tale. Occhio a non irritare qualcuno che subito vi piglierà a male parole, la vostra anima delicata ne soffrirebbe troppo. C'è una notevole sintonia nella coppia e lo testimoniano un pianeta deputato all'area emotiva dello Zodiaco, Venere, in aspetto per voi benefico, accompagnato dal Sole, che invece è assegnato all'area delle forze maschili, volitive, passionali, pure in buona angolatura astrale. Combinate, se siete in coppia, una fusione sentimentale molto soddisfacente con lo slancio erotico, in specie al modo se festeggiate il vostro compleanno dal 26 di giugno al 3 di luglio. Lavoro e denaro. I saldi sono iniziati e così oggi fate ma bassa, non solo indumenti, anche oggettistica, utensili per la casa e il bricolage. E poi belle soluzioni per il giardino, e terrazzo che adorate o qualche bel libro da gustare in vacanza sotto l'ombrellone. Protetti alle spalle dal grande Giove oggi potete permettervi qualche stravaganza in più. Se siete intenti nello studio perché dovete superare esami universitari gli astri vi gratificano. Il duo Saturno, Nettuno vi dona proprietà espressive di ottimo livello e vi assicura un'eccellente prova. Benessere. A tavola gusti gourme, amate il buon cibo e lo sapete cucinare, ecco perché gli amici vengono volentieri a casa vostra, un po' per il piacere della vostra compagnia, un po' per il gusto delle vostre inarrivabili ricette. Denaro. Pur con sole, Saturno, Urano molto positivi, la vostra volontà di risparmio è notevole. Se siete in vena di shopping oggi le forze zodiacali vi spingono a essere parchi e misurati. Per lei, l'amica del cuore è rimasta a secco, indubbiamente per i suoi errori, tanto simili ai vostri, ma poiché la capite, decidete di darle una mano, vorrà dire che dovrete rinunciare all'acquisto oneroso che avevate in progetto, ma anche voi concordate. I sentimenti contano più delle cose. Per lui, possessivi, non solo con gli oggetti ma anche con le persone, solo che lei, la vostra nuova fiamma, non ve lo permette e ha ragione. Il partner è un essere da educare e addomesticare. Proprio come un cucciolo, e naturalmente la massima è valida in entrambe le direzioni. Colore delle emozioni, giallo zafferrano. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.